Benvenuti sul nostro canale Oggi faremo un video di chi fa più ruote consecutive sulla pala Via! Chi parte? No, io no Elena, via Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dredici Tredici Tardici Quindici Diciasette 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 Diciotto Diciannove Dici Dicicel Venti Dicenemini 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 Vetri Venti Dicenemini Venti 27 28 29 30 31 31 31 Super Elena Pronti a batterla? Dai, forti Ami 1 2 3 2 Vai 1 2 Chi è? 3 3 Chiara Concentrata 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Brava, Chiara 9 Vieni Brava 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sfida l'ultimo sangue 19 20 21 22 23 24 la mira puoi venire qua 25 26 bravi 28 ne mancano 3 29 30 31 siete pari se fai la prossima hai vinto 33 direi basta hai già vinto vuoi finire 34 34 34 34 34 ciao ci vedremo in ultimo video 30 30 30 30 30 30